Michele Di Bari è il nuovo prefetto di Napoli, subentra Claudio Palomba, ne tracciamo un profilo nel servizio di Vittorio Marotta. La decisione è arrivata con il Consiglio dei Ministri di ieri sera. Michele Di Bari è il nuovo prefetto di Napoli, originario di Mattinata in provincia di Foggia, dallo scorso 6 marzo prefetto di Venezia. Nelle ultime settimane si era trovato ad affrontare l'emergenza dell'incidente del bus di Mestre, costato la vita a 21 persone. 64 anni è stato nominato prefetto nel 2010, una lunga carriera che lo ha visto vicecommissario di governo per la regione Friuli, poi prefetto di Vibbo Valencia, Modena e Reggio Calabria. È stato vicecommissario capo del Dipartimento Immigrazione del Ministero dell'Interno con i ministri Salvini e Lamorgese, nonché presidente del Comitato Opere Strategiche. Nel giro di nomine voluto dal governo, Di Bari prende il posto di Claudio Palomba, prefetto di Napoli, dal 6 novembre 2021, che andrà invece al Viminale, dove è stato nominato capo dipartimento per gli affari interni e territoriali, al posto di Claudio Sgaraglia, nuovo prefetto di Milano.